Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Roboogin e soprattutto bentornati su Palward. Oggi non avremo una guida, ma ragazzi, parlare di Palward mi mancava, quindi spero resterete con me. Scusate l'assenza, ma in questi giorni ho acquistato casa, quindi sto appresso insomma a tutte quelle che sono le pratiche. Oggi però parliamo di novità veramente interessanti riguardo Palward, perché è stata annunciata una grossa patch che è già online, ma anche per fare un wrap-up di quelle che sono attualmente le milestone, quindi i punti in cui si trova Palward e alcune novità per il futuro davvero molto, ma molto promettenti. Iniziamo subito vedendo di che cosa si tratta. Partendo dal principio, questa non è una nuovissima notizia, ma vediamo subito il futuro di Palward secondo gli sviluppatori. Quelli che vedete appunto qui infatti sono comunicati ufficiali dal profilo Twitter ufficiale di Palward. Ci tengo anche a specificare che tutti gli altri profili che non siano questo sono comunque fatti da fan e di recente Palward ha anche avvisato di fare attenzione al fatto che ci sono utenti che stanno cercando di vendere NFT a nome Palward, quindi quella roba è falsa e non esiste nessuna applicazione mobile che riguarda Palward, quindi fate attenzione alle truffe. Il futuro di Palward comunque già ne abbiamo visto qualcosina ed è la roadmap dell'early access, perché sì ricordiamo che questo gioco non è stato rilasciato in versione completa, ma è ancora un early access, quindi in realtà ne abbiamo ancora tanto da vedere. Ci sono delle situazioni che stanno già risolvendo, infatti la primissima voce parla delle problemi critici, quindi questa primissima voce che vedete qua. Addressing critical issues che è ciò che stanno facendo in questo periodo, quindi sistemare i bug, i problemi, migliorare l'esperienza di gioco. Iniziale proprio la patch di oggi parlerà di questo, quindi quello che dicono è ad ora ci sono numerosi bug che sono stati identificati e stiamo dando la priorità a sistemare questi. Di recente infatti avete visto anche che ci sono state delle problematiche con dei cheater che rubano i PAL degli utenti anche nei server ufficiali, quindi questa cosa è sgradevole, ma hanno risolto. Qualche volta la data del mondo crea dei rollback, quindi perdite del server dovrebbero aver risolto anche questo. I caricamenti persistono quando carichi i mondi e così via. Quindi queste sono state le cose che hanno identificato letteralmente al giorno del lancio, in pratica perché questo comunicato, se non sbaglio, è proprio del 24 gennaio, quindi pochi giorni dopo il lancio. Miglioramenti che verranno apportati il prima possibile sono i miglioramenti della configurazione dei tasti, attenzione questa cosa l'hanno fatta, non per tutti quanti ma alcuni tasti l'hanno sistemati, miglioramenti all'intelligenza artificiale dei PAL e anche questa cosa è avvenuta e in parte ovviamente nella patch di oggi. Le cose più succulente riguardano appunto i futuri update che includono il pvp e questa cosa è molto importante perché io non sono un fan del pvp ma qua ci tengo a sottolineare che hanno già risposto a questa domanda e cioè hanno detto che il pvp non sarà open, quindi non sarà stile rust per farci capire, insomma non sarà una roba estremamente tossica, ma a quanto pare sarà contingentato, comunque credo verrà in qualche modo magari delimitato delle aree oppure su accordo tra giocatori e così via, quindi ecco non sarà libero a meno che i server che vengano creati non abbiano magari una flag che può dire ok pvp sempre aperto e così via, quindi ecco il pvp sarà limitato da un punto di vista ufficiale. I boss raid, queste cose sono molto interessanti perché contenuti endgame in cui i giocatori dovranno collaborare per sconfiggere i PAL boss più importanti, in questo caso immagino magari che so una squadra dei giocatori un po' come cade in destiny deve fare delle azioni per rendere il PAL vulnerabile e un terzo giocatore deve attaccarlo, cosa di questo tipo ed è molto molto interessante perché fornisce un grado di sfida maggiore rispetto al classico fight fatto solo di HP. PAL arena molto interessante quindi i pvp per PAL in questo modo magari i giocatori si incontreranno in delle arene e ci potranno essere dei tornei anche se hanno annunciato che in futuro verranno anche eseguiti dei tornei per i PAL e sembra molto molto figa come cosa. Steam Xbox Crossplay, sì su questo ci stanno già lavorando, anche Xbox ovviamente ha parlato e ha detto che fornirà un supporto diretto perché sono in diretta collaborazione adesso con Pocket Pair per fornire miglioramenti del flusso di attività per quanto riguarda i server, il caricamento dei server e soprattutto le patch, quindi ottima mossa da parte di Xbox nel collaborare direttamente con Pocket Pair. Miglioramenti appunto delle versioni Xbox sta già avvenendo, trasferimenti di server in migrazione questa cosa servirebbe veramente tantissimo in modo tale così da poter trasportare i propri server, i propri personaggi e così via è ovviamente viaggiare di server in server, questa cosa aiuterebbe molto anche gli utenti a non ricominciare ogni volta da capo. Miglioramenti al sistema di building, molto utile perché adesso purtroppo è ancora molto limitato soprattutto quando bisogna costruire orpelli o comunque in verticale quindi anche le scale, proprio la struttura in generale della costruzione è un po' limitata per quanto molto creativa però sicuramente mi piacerebbe tanto vedere dei miglioramenti. Nuove isole, PAL, boss e tecnologici e beh questo ce lo aspettiamo tantissimo perché il mondo è già enorme ma ovviamente quello che viene detto anche nelle recenti voci che aumenteranno i punti di interesse e i luoghi interessanti quindi ecco il mondo diventerà sempre più popolato e popoloso di punti di interesse e cose da fare e non vedo l'ora. Ovviamente riguardo le novità dei PAL in realtà molti utenti hanno già iniziato a scavare nel codice, hanno trovato dei PAL non rilasciati tra cui uno che ha creato un po' di controversie perché sembra una copia di Mewtwo. Ma ragazzi le controversie verso il mondo Pokémon non finiranno mai. Andando avanti le informazioni che abbiamo ottenuto nella giornata di ieri attraverso l'account ufficiale dopo un po' di silenzio è che finalmente abbiamo dei dati riguardo le vendite ai giocatori e c'è da festeggiare insomma PAL Word ad oggi supera i 19 milioni di utenti e le copie vendute sono da capogiro. Su Steam 12 milioni di copie e su Xbox 7 milioni di giocatori perché ovviamente si fa invece del Game Pass in questo caso. Pertanto l'interesse da parte loro è sempre quello di dare priorità al risoluzione dei bug e poi ovviamente ai contenuti perché quello che loro hanno detto vogliono fare è fare in modo che il gioco sia il più stabile possibile per poi ospitare in futuro novità e ovviamente tutte quelle cose che possono essere anche un po' problematiche da un punto di vista della gestione del gioco. Quindi nell'inserimento magari di nuove meccaniche, nuovi materiali, nuovi PAL la possibilità che si creino nuove problemi sono ampie quindi più vengono risolti i problemi adesso meno ci sarà da sistemare in corsa dopo. Passando le patch della giornata di oggi queste sono state applicate ieri sera credo stanotte adesso non ricordo esattamente andando a vedere qua alle 4.25 di questa mattina quindi sì è letteralmente freschissima ed è una patch che molti stavano aspettando si fa riferimento anche alle cose che ho detto all'inizio del video le problematiche che avevano già in mente dal 24 di gennaio di iniziare a risolvere. Fix maggiori sistemato un problema nel gioco che crashava secondo certe condizioni. Sistemato un problema dove un altro giocatore dove un altro PAL cioè un altro PAL di un altro giocatore se aveva il 30% o meno di vita poteva essere catturato con una sfera. Sistemato un problema dove i PAL nemici rimangono incastrati nelle mura dopo e durante gli attacchi. Questa cosa è capitata anche a noi nel server insieme a curo e zerga in cui i PAL si incastravano diciamo nelle mura del villaggio e non attaccavano implementato il primo fix per un problema dove il gioco andava sempre in crash e si corrompeva al fa di salvataggio quando la gilda aveva un numero superiore o uguale a 7000 PAL o lì io 7000 PAL non so minimamente come fai ad averli però gg per chi ce li ha quindi il gioco non crasherà più nemmeno se il numero totale dei PAL catturati supererà i 7000 quindi questa cosa ottima per coloro che lavorano magari proprio nella cattura dei PAL per migliorare al massimo la propria efficienza. Tuttavia i dati salvati che sono stati già corrotti in questo stato dopo questo update sarà impossibile comunque recuperarli quindi dovrete ricominciare. Stiamo continuando a risolvere questi problemi per una risoluzione permanente. Configurazione dei tasti ne abbiamo parlato poco fa, ha aggiunto supporto per i tasti laterali del mouse e il keypad numerico sulle tastiere con la configurazione dei tasti ottimo quindi abbiamo anche il tastierino numerico. Altri miglioramenti sono attualmente appunto in corso come il supporto per l'interazione della configurazione dei tasti. Problemi del giocatore. Sistemato un problema dove i giocatori nel server dedicato e in cooperativa ricevevano il danno doppio. Specifiche sono state cambiate, hanno sistemato delle specifiche in cui vi muovevate in maniera estremamente lenta dopo aver superato un certo limite di peso. I giocatori non possono più passare attraverso le pareti quando scendevano dalla monta quindi in generale dalla sella. Sistemato un problema dove il miglioramento della diciamo delle statistiche attraverso le fiji di Leafmunk resettava l'utilizzo appunto della memory reset drugs perché c'è un oggetto in gioco lo sapete che vi permette di resettare le skill però era un oggetto potenzialmente rotto poteva farvi crashare letteralmente il gioco e perdere comunque i punti quindi questa cosa qua è stata risolta. Sistemato un problema dove l'armatura potreva essere equipaggiata negli slot sbagliati molte persone facevano una sorta di power play in cui inserivano le armature in ogni slot disponibile nel settore armatura quindi mettevano un'armatura completa a posto dell'elmo, a posto appunto dell'armatura, a posto della collana e così via. Sistemate le posizioni delle camere per molti PAL in modo tale da rendere più facile la visione dalla sella sappiamo che abbiamo dei PAL giganteschi e quindi a volte è difficile poter vedere dal PAL come ad esempio il King Paca quindi la sistemazione della camera aiuta molto anche a poter vedere quello che hai davanti. Problemi con la base specifiche sono state cambiate così i PAL adesso che vengono assegnati manualmente all'accoppiamento non diventano più affamati nelle assegnazioni manuali finché non vengono rimosse quindi ecco in questo modo diventano autonomi se hanno fame vanno a mangiare. Adesso il tasto per alzare i PAL non è più F ma è V e nel pad da x a y così da prevenire incidenti. Ridotta la velocità e il raggio del fuoco sui costruzioni in legno perché se per caso il fuoco toccava la base la base si inceneriva praticamente all'istante. Sistemato un problema dove il lavoro manuale dove l'assegnamento del lavoro manuale non può essere settato sotto certe condizioni. Questo problema l'ho anche riscontrato dove andavo a mettere magari un PAL al frigorifero quindi un PAL ghiaccio al frigorifero ma non accettava quel lavoro perché nei dintorni c'era qualcos'altro e quel qualcos'altro andava a creare un problema e non mi accettava diciamo il frigorifero. Sistemato un problema dove dei relaxaurus di altissimo livello attaccavano la base durante i ride. Aggiunte misure di ovviamente misure contro misure per i PAL che si bloccano sulla base. Vi capiterà di vedere dei PAL che si incastrano sopra le cime degli alberi all'interno degli edifici e così via. Meno male perché un grosso problema da risolvere è sicuramente il parting cioè il far sì che i PAL riescano a gestire meglio i cammini soprattutto all'interno degli edifici. Sistemato un problema dove i PAL si incastravano mentre trasportavano oggetti e li lasciavano sul posto. Questa cosa purtroppo capitava spessissimo. Sono curioso di vedere cosa hanno fatto. Sistemato un problema dove i PAL alla base continuavano a tagliare alberi dove non c'erano più. Sì mi è capitato anche questo. Sistemato un problema dove i PAL alla base prossimi alla morte a causa di danni da caduta senza spiegazione. È vero. Capitava di vedere ogni tanto dei PAL cadere dal cielo senza motivo. Sistemato un problema dove i PAL alla base fluttuavano sotto alcune condizioni. Li trovavi in cielo. È vero. È capitato. Chissà se mai sistemeranno il Mossanda ma ormai il Mossanda è talmente un meme che il suo volo a caso deve rimanere. Sistemato un problema dove se la fattoria viene costruita a un secondo piano sopra i PAL non hanno capacità di andare ai piani di sotto. Sistemati testi non corretti. Ok sono state aggiunte contro misure contro i cheatere coloro che rubano gli altri PAL degli altri giocatori. Ottimo questa cosa. Altri piccoli fix. Quindi queste sono le cose molto importanti che servono comunque a migliorare l'esperienza di gioco. Ultima cosa ed è una chicca l'avete letta forse nel titolo di questo video nella miniatura e che io sinceramente non vedo l'ora ragazzi è il mistero che avvolge questo. Tan tan tan. Il CEO di Pocket Pair ha mostrato le carte collezionabili e questa cosa però è stata subito tolta da Twitter. Tuttavia io ho già mobilitato persone in Giappone soprattutto appassionati di PALWAR di tenere le antenne belle alte perché non si sa mai se questa sia una prova o meno magari di un potenziale gioco di carte collezionabili. Io non lo so ma voglio riuscire a collezionare la prima edizione sigillarla nella nascosta in un luogo sicuro perché perché non si sa mai ragazzi. Voi se foste diciamo adesso poteste tornare al passato non collezionereste tutti i Charizard che vi capitano o il magari e li mettereste all'interno di un luogo sicuro. Beh io non lo so però diciamo che se dovesse capitare questa opportunità a parte che sono carinissime io voglio metterle via cioè non mi va di avere un Mammorest verde o un Gritzball così dorato cioè io assolutamente non vedrei l'ora ma lo dicevo anche all'inizio no io dico il modo migliore per celebrare PALWAR in questo momento sarebbe creare il gioco di carte collezionabili e ovviamente i plusci diciamo i pupazzetti magari di Depresso o di Dumud o appunto degli Sweeper o del genere quindi sarebbe veramente veramente molto carino. Sono davvero curioso e anche altre novità comunque in futuro del gioco parlano ovviamente di una nuova quantità di PAL, nuovi punti di interesse, nuove mappe, nuove isole e così via. Ovvio che ripeto questo gioco attualmente è in early access quindi sicuramente a rilascio dovranno lanciare il gioco completo con tante nuove feature e sinceramente se questo è lo stato attuale del gioco non vedo l'ora di vedere che cosa hanno in serbo per il futuro. Questo è quanto ragazzi questo era un aggiornamento lo so non era una guida però volevo appunto respirare nuovamente un po' di PALWAR. Io vi aspetto su Twitch se volete venire a fare due chiacchiere twitch.tv slash robogin. Per tutto il resto ovviamente lasciate dei commenti qua sotto se vi è piaciuto il video un like, iscrivetevi, insomma la routine la sapete. Grazie ancora per il vostro tempo signore e signore e noi ci vediamo sul campo. Grazie a tutti.